Partita la prima batteria Suono dalla campana La fruttura della patina di Giacomo Prendiamo il tempo all'attivo Quindi questa prima batteria 49,624 La prossima Ciao 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 Campana ultimo giro Si porta testa a Ponzetto Erele Dall'aspetto treb a Rodrigo Tempo di riferimento alla fria 50,206 Partita in maniera regolare Questa volta la batteria numero 4 Leole Erele 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 il suo tempo di riferimento al passaggio del traguardo 4, 7, 2, 3, 5 Bafferina Dalla tre a diciannove, l'Azura continui il gioco in urbe. L'ultimo punto da gira, venimo al traguardo, un tempo di riferimento della batteria. Un tempo di riferimento della batteria, venimo al traguardo, un tempo di riferimento della batteria. la campagna dell'ultimo giro il dottore Alessia 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 passa a partenza attendiamo siamo al passaggio a partenza 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 a partenza